Musica Ci troviamo in piazza Umberto I a Varsi, la piazza del municipio. Il 16 di marzo l'amministrazione comunale ha inviato a tutti i capi famiglia una lettera per un referendum, è stato proposto di cambiare il nome a questa piazza, sono state fatte diverse formulazioni e abbiamo sentito il sindaco di Varsi non è ancora stato deciso in quanto questo referendum sembra non abbia interessato molto i varzesi. Noi faremo un piccolo referendum tra la gente che troviamo qui nella piazza, piazza Umberto I, anche facciamo questo referendum perché a Varsi è stata chiamata questa piazza piazza delle camminate, la cosa ai varzesi non è piaciuta molto, sentiamo comunque alcuni varzesi. Tra piazza delle camminate, piazza Malaspina, piazza Umberto I, piazza del municipio, qual è il nome che secondo te è più adatto per Varsi? Secondo me sarebbe piazza Malaspina perché Malaspina sono stati signori di Varsi e di conseguenza sarebbe giusto piazza Malaspina. Grazie. Prego. Tra piazza delle camminate, piazza Umberto I, piazza del municipio e piazza Malaspina qual è il nome più giusto per la piazza? Secondo me il mio modo di vedere sarebbe piazza del municipio. In quanto qui è la sede? Sede del municipale. Grazie. La saluto. Sai che si vuole cambiare il nome alla piazza dove ci troviamo? Sono state proposte piazza del municipio, piazza Malaspina, piazza Umberto I o piazza delle camminate? Quale ti piace di più? Piazza del municipio, piazza Malaspina, quale ti piace di più? Piazza del municipio, sì perché appunto io sono abituata a chiamarla così. Non sei d'accordo con quelli che la chiamano piazza delle camminate? No, non mi sembra un nome tanto appropriato. Grazie. Sapete che vogliono cambiare il nome alla piazza dove ci troviamo adesso? I nomi proposti sono piazza Umberto I, piazza Malaspina, piazza delle camminate e piazza del municipio. Secondo te qual è la più appropriata? Ma secondo me è piazza del municipio, dal momento che tutti i varzesi la chiamano più o meno così, per cui è conosciuta in questo modo insomma. Marisa? Sono completamente d'accordo su piazza del municipio. Anch'io ho la stessa opinione, piazza del municipio. In questi giorni si sente parlare di piazza delle camminate, a voi piace? Ma insomma, preferirei il municipio. È bello perché richiama il nome antico della piazza e ha un suo significato storico, però insomma, piazza del municipio anche per chi viene da fuori può essere più semplice. Anche per te? Sì, anche per me. Poi non sono di qua, sono di Voghera, quindi anch'io la conosco come piazza del municipio e quindi credo che debba rimanere piazza del municipio. Grazie. Il nome alla piazza Umberto I, tra piazza Municipio, piazza Umberto I, piazza Malaspina e piazza delle camminate, quale deve essere scelto secondo lei? Con la lega del municipio. Piazza Municipio. Per me è cazzo. Grazie. Grazie. Sa che a Varsi vogliono cambiare il nome alla piazza dove ci troviamo, è stato scelto piazza del municipio, piazza Malaspina, piazza Umberto I e piazza delle camminate. Qual è il nome che secondo lei deve essere scelto per questa piazza? Secondo me penso che piazza Umberto I, come si chiama adesso, andrebbe bene che rimanga con questo nome. Ancora. Grazie. Prego. Grazie. 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 Grazie.